sì ovviamente uno quando entra cerca di dare sempre il massimo poi essendo di campo basso cerco sempre di dare il cento per cento quando entra anche se per pochi minuti che ho sfiorato il gol non fa niente sarà per la prossima volta l'importante è che la squadra ha vinto sono tre punti importanti in un momento difficile quindi va bene così sì noi cerchiamo di preparare le partite sempre al massimo sempre concentrati anche questa settimana abbiamo lavorato molto ad alta intensità per riguardo alla formazione della squadra avversaria noi per noi le partite sono tutte uguali quindi diciamo guardiamo più noi stessi e non appunto la squadra avversaria e quindi oggi si è visto abbiamo dato il massimo con grinta e cattiveria sì sì noi secondo me dipende tutto da noi cioè se ci alleniamo bene in settimana diamo sempre il 100% e riusciamo a metterci in luce agli occhi dell'allenatore lui non vedo perché non dovrebbe farci scendere in campo come tutti gli altri quindi secondo il mio punto di vista l'allenatore si sta comportando come giusto che sia